Spaccatura profonda e ormai insanabile all'interno del gruppo di minoranza consigliere del comune di Favignano, inizialmente letto nella lista Ega di Braschi sindaco e poi transitato in Forza Italia. Il 30 aprile scorso i consiglieri Maria Sinagra, Kim Hernandez e Antonino Loiacono hanno ritirato la fiducia al loro capogruppo Toto Braschi. Le motivazioni però rimangono tutte interne al gruppo poiché non ci sono state in consiglio dichiarazioni politiche conseguenti che hanno sostenuto la decisione, a parte la comunicazione formalizzata in poche righe. Che la spaccatura sia insanabile lo dimostra il fatto che lo stesso Braschi, pur rimanendo all'opposizione, ha successivamente lasciato il gruppo dichiarandosi indipendente e ricollocandosi nella lista di provenienza di cui era candidato sindaco. L'ennesimo scontro, tutto interno alla minoranza, si è registrato nella seduta della Commissione Consiliare e Riserva, come spiega lo stesso Braschi, al quale non è stato consentito di presentare un ordine del giorno. Ordine del giorno che il Presidente della Commissione non mi ha permesso di presentare perché adduceva che c'era una norma regolamentare che lo pietava. Ma gli ho fatto intendere che allo Statuto, essendo una norma di rango di diritto superiore, comunque veniva anche ad essere legittimata la mia richiesta. Cosa che invece in maniera incomprensibile da me ma anche dai colleghi della maggioranza non è stato permesso. Ma comunque l'ordine del giorno è stato presentato nel protocollo comunale, l'amministrazione già l'ha condiviso. E quindi sta portando avanti comunque la richiesta che proviene dal territorio per i residenti avere una zona C di riserva generale per praticare la pesca sub in appennea. Diciamo comunque che la questione è tutta politica interna anche al gruppo di minoranza. Sì, devo dire che purtroppo c'è stata anche una frattura nel gruppo di minoranza dovuta a una comunicazione dei colleghi di minoranza che hanno chiesto e quindi comunicato al Presidente del Consiglio la disegnazione di un nuovo capogruppo. Quindi io, capogruppo, mi ritrovo adesso e ho dichiarato normalmente in tutte le salse per evitare anche strumentalizzazione di essere un consigliere sempre di minoranza, indipendente e ritorno nella mia lista di origine.